Se la faccio diventare la prima donna a capo di una missione oltreoceano, tutta la chiesa la riterrebbe prova evidente di quanto le donne possono o non possono fare. Sorelle, se vogliamo costruire un impero di speranza, sembra che dobbiamo iniziare conquistando New York. Mio papà si è suicidato e mia mamma è morta di tifo. In America, i ratti vivono meglio dei bambini di Five Points. Ho bisogno di un orfanotrofio che sia più grande. Il sindaco troverà un altro modo per cacciarvi. A breve ci saranno le elezioni, non è così? Ho l'impressione che mi stia minacciando. Non lo faccia madere. Ha sfidato persone molto potenti. Voglio il miglior ospedale per i suoi cittadini, così come per i miei. Questo progetto è eccessivamente ambizioso. Dobbiamo mostrare che siamo un popolo pieno di dignità. Andate, Benedetto! Fuori! Dimostriamo coraggio o moriamo. Così ho imparato a vivere in America. DIVENCIA Grazie a tutti.